Grazie a tutti. Ora il corpo libero per l'Italia. Prosegue il programma. Siamo ormai nella quarta rotazione e si avvicina alla conclusione di questo grande appuntamento. Torfario Città di Viesolo rimangono ancora 8-9 atlete per completare la rotazione. Ma seguiamo Francesca De Agostino. Francesca è anche lei un'ottima esecutrice a corpo libero, si esprime molto bene nella parte artistica e anche i salti hanno una buona elevazione. Un doppio avvitamento, si sta preparando per la parte conclusiva del suo esercizio. E il doppio carpio di finale, adesso la parte artistica che conclude. Grazie. 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 Grazie.